Ciao a tutti ragazzi, l'è Alessia e l'è Martina e adesso è un nuovo video! Come potete vedere, oggi faremo una nuova slime challenge, ma una un po' più particolare. Infatti faremo la stop challenge, però non nelle azioni che svolgiamo di solito, ma appunto per fare lo slime. Cosa ci fai? Ok, continuiamo. Allora, dicevo, prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi qui al nostro canale, attivare la campanellina e non perdervi nessun altro video. Inoltre vi ricordiamo di seguire su TikTok. Io mi chiamo Martina209 e adesso è Tana2011. Seguiteci in tanti, mi raccomando, iniziamo! Allora, per vedere chi inizia facciamo carta, forbice e pietra e vediamo chi comincia a prendere le cose. Ah, ho capito. Comunque potremo stoppare l'altra tre volte a testa. Carta, forbice e pietra, carta, forbice e pietra. Inizio io. Allora, io direi di prendere la mia colla preferita in assoluto da tutte quelle che abbiamo. È questa. Assolutamente, raga, bellissima. Io prendo perché... No, prima devo versarla io, poi la versi tu. No, e se no non è brutta, vabbè, no. Allora, un altro TikTok ha detto provate a fare lo slime con quella fucsia, quella argento, quella oro e quella viola. Però consideriamo che una volta che una ha messo la colla, l'altra non può mettere la stessa. Come? Eh no, e se no hai, che senso ha? Su dai, scegli una colla. L'azzurra. Ok. Anzi, vabbè, sì dai. Tu vai, scegli la tua. Ok, allora, io sceglierei subitissimo, velocissimamente. Ovviamente io mi tengo tu, quasi tu, perché, allora, io ne devo fare due e poi la terza sarà peggiore, la peggiore. Ma ragazzi, devo concentrarmi. Allora, prendo, 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 quale prendo? Prendo questa oro. Davvero bellissima, io l'adoro. Oh my god. Tu stai facendo praticamente dos pezzi. Esatto. Io voglio provare azzurro e rosa. I colori, perché, ehm... Sbriga, se no questa qua poi... Stop! No! Perfetto ragazzi, io vorrei far vedere cosa voglio fare. Ovviamente tu dopo non potrei fare la stessa cosa mia, se no non ha senso. Ok, io ho messo comunque la mia colla, ehm, oro. Metti la colla però, scusa. Ok, e adesso... Dato che lei vuole fare uno slime con tanti, tanti... Metto un sacco di glitter allora. Glitter. Io? No, 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 no. Poca, poca, poca. La ridire. No, la loro colla, non uscire, colla. Brava, un goccio e basta, un basta. Tu devi stare ferma innanzitutto, cioè... Colla, 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 colla. Allora, fermati. Non uscire più bravissimi. No, non qui in questo modo, in nell'altro. Ale, devi stare zitta, sei in stop. Aspetta, che colori sono quelli azzurri? Ok, perfetto. Abbiamo i glitter azzurri? No. Questa cosa... Ah, che bello. Io rovinerò il coslike. Ho un'idea. Va bene, ragazzi, vi aggiorno appena avrò finito. Ok, ragazzi, ho finito e adesso è ancora in posa. Ok, ho finito. Ascomi, non ci riesco a vedere. Perfetto. Mi metto sulla... Oh, comunque... Stop. Cioè, via. Ok, Alessia, adesso che ho messo la sua colla, devo mettermi una io. Sono la sua colla rosa. No, Ale, devo mettermi una io. Non è che tu mi hai dato quella... Vabbè, lasciamo perdere. Che vuole questa? Io aggiungerei... Qua. Cosa aggiungerei? Boh, non so, magari... Dai, ci metto... Ok, dai, le collette la filtrata rossa. Stop. Allora, non continuare a spremere, perché se no io ci uccido. Allora, ho i capelli in bocca, però. Cosa vuoi aggiungere? O vuoi togliere? Mi fai qualcosa di schifuzzo. Anche se non puoi togliere. Di schifuzissimo. Allora, tu che colore pensi che puoi venire? Non posso parlare... Non puoi metterla con la vinica, da un messaggio io. Le voglio mettere... Di glitter, tipo... Tipo, i blu non stanno bene con questi qui. Però, quindi, le metto tanti, 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 tanti. No, così l'ho rovinato un sacco di... Ehm... Credo che basti, perché alla fine si... Sono felicissima! Io volevo mettere questa, tu mi hai messo glitter blu. No, 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 questo non ti puoi più usare, perché è mio. Cioè, già l'ho stata io. Vabbè, comunque, grazie, cioè, io lo volevo. Dopo vedrai che consistenza avrai il slime. Vabbè, vai. Adesso... Mattia, ma perché non esce? Perché l'ho fatto? Ok, dai, carina. Non lo usare tutta. Sì, infatti, dai. Facciamo le blu. Allora. Questa... No, ma... No, 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 non vale. No, ma, non va... Ok, 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 ok. La state vedendo tutti? Aspetta, aspetta, dai. Posso, possiamo toglierla? Un po', dai, un po'. Perché se non me l'hai messi troppo. Potami i labbrani. Vabbè, non, non fa niente, non ci riesco neanche. Vabbè, comunque, ragazzi, ora tocca a mua. Ah, questa qua già l'ho messo io. Ok, allora. È rimasta l'ultima colla, quindi l'ha messo su. voglio mescolare è velocissimamente veloso prima che quella memoria tanti di perché sono d'arte bella l'idea che non sono gli te però sono tipo di ola sabbia tocco dove mettere quelli che si lo vede di te fatti porto sbatticola non vieni tutti perché ci sono pochissimi attenzione no ora non mi può più usare in questa challenge perché lo so di già io perfetto via altri glitter ah no tocca a te allora io direi io voglio soltanto mescolare posso mescolare? no dopo arriva il momento sì io fatelo dire a volte io posso stopparla solo un'altra volta cosa stai facendo? che puoi vedere? io posso stopparla solo un'altra volta ricevo io spero posso fare ancora più schifo va bene io ho fatto vaga ve lo dico fa schifo il suo cioè a me non mi piace tanto non andrei così orgogliosa a me mi piace mi piace e io mi soffro in troppi glitter wow il tuo è molto carino guardatelo se non fosse per la colla vinilica invece il mio è molto carino sono un po' sovrappati dal blu però comunque i miei hanno sotto anche la colla argentata e oro su vivanti Ale no io ho messo le cose ah già tocca a moi tocca a te moi allora 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 cosa potrei mettere cosa potrei mettere cosa potrei mettere schifo schifo no i glitter non li voglio mettere voglio mettere l'altra colla magari questa ora però questa qua non si può più usare mi raccomando no mi faccio con le leggi ok la sto versando tutta perfetto non ci sono sui miei perché io voglio il veloce perché sennò questa qua ma adesso non mi piace adesso devi fare di nuovo tu io basta io ho messo io basta tu hai per te hai fatto buono no non puoi raggiungere allora aggiungi tu io intanto mescolo oh yes cosa puoi aggiungere allora dai ti do un bonus possiamo mescolare poi se vogliamo possiamo aggiungere qualcosa così magari se vogliamo ma il mio è una galassia davvero ti uccido ti uccido che io magari aggiungo a me non mi piace tanto perché ci sono tutti i glitter allora voi sembrate liggio non so perché però è oro con tantissimi glitter di tutti i colori del mondo no mi sta diventando no si che posso vieni qua vieni qua sta diventando lilla cosa si per te il colore lilla il colore lilla ma come hai fatto sono magia no sono io no una magia solo fortuna fortuna certo ma che c'è chi fu il color buono non so il color strano oh che fai non puoi aggiungerne altro uguale infatti è diversa è vero vabbè raga niente io sono abbastanza soddisfatta quindi passerei al bicarbonato no ormai l'ho già messo l'ho già messo appunto 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 è sicuro perché voglio che diventa solidissimo metto la pietra di bicarbonato basta non decidi tu ria via anche io ne avrei messo così quindi buono dai ok ora tutti e due possiamo stopparci solo un'altra volta e quindi boh raga io sono molto soddisfatta cioè veramente tutte e due le cose che mi ha fatto lei sono passeggiate comunque ho le voglio dare più colore ali non puoi metterla allora possiamo mettere soltanto le cose che già abbiamo messo davvero sì e tu ma hai detto che non la posso mettere ma quella l'ho messa io ah no non è vero sì l'ho messa io ma no ma che cosa allora sai che cosa faccio metto altri un po' di questi due stop ok allora io direi che per diventare tutto un po' più schifato e per non farti aggiungere altro ovviamente ma Marti però si possono aggiungere altre cose sì sì certo anche se metti liquida per l'antica posso aggiungere anche se metti liquida per l'antica posso aggiungere ma allora io farei qualcosa di schifoso nei glitter no per me i glitter sono sempre belli pure se li metti rossi blu argento perché con questo slime tutti i glitter vanno bene quelli rossi che non ci azzeccano niente tanti che segnali cosa faccio bene io non posso chiuscire a fare Alessia no va bene anzi no 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 non voglio dire via scusami no no mi dispiace il male detto bye 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 cosa dici ok raga basta mi mette un sacco di glitter argento perché ecco il mio risultato non so perché voi lo vedete è un sacco di glitter grigio però va bene adesso faccio una cosa bellissima mettiamo il liquido perfetto ho messo il liquido per lenti e ora vado a formare il mio slime scusa ma te quando è che vuoi usare l'ultimo? allora nel frattempo io visto che non farei niente dai veloce allora che cosa non mescolate dai veloce ferma ferma è veloce che se no il video dura tre anni che cosa ti metto la colla schifosa rossa ma io te l'avevo già messa quindi allora ti metto una schifosa rossa hai messo quell'oro? si l'ho messa tutta ti metto una schifosissima non puoi metterla non puoi metterla perché l'ho messa io dai veloce questo chi è l'altro con l'oro? e spero no papi già potrei metterla su una cosa quindi stop basta non puoi mettere in un altro non è vero regano io non mi arrenderò mai bene adesso tutti e due abbiamo terminato le cose quindi non ci resta che addensarli ragazzi ci vediamo tra qualche secondo allora io ho mescolato e adesso metto il liquido per lenti io l'avevo già messo il liquido per lenti però ne devo mettere altri e anche il bicarbonato perché voglio fare una cosa bellissima che non è che voglio tipo mettere cioè voglio mescolare tutte insieme ah e comunque ragazzi a 15 like faremo la parte 2 di questo gioco wow un pochino più di bicarbonato comunque è sempre molto soddisfacente quando si sta formando lo slime liquido infatti è davvero bello perché tu speri che si forma e poi si forma perché con questa colla che sono è messo cioè si possono mettere cioè viene viene presente vabbè raga vi aggiorniamo appena si sono addensati per bene perché sennò il video dura due anni no 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 allora io a me sta venendo Martino invece lo sta prendendo già con le mani sì però con il liquido ovviamente perché me lo dimentico sempre prima togliamo il cucchiolo è durissimo bene ho anche il telefono al 5% quindi vado a prendere il power bank 2 raga era 2% dunque raga nel fatto che lei è andata a prendere il power bank a me si è formato anche qui questo qua si è la ciotola però voglio mettere va bene liquido parlante non metto altro perché anche perché lo slime serve anche quello che avrò nelle mani a me piace lo slime con poco liquido perché se c'è troppo liquido diventa tipo dopo eh schifo che non si allunga in pratica no ma anche perché cioè non lo riesci a fare perché tu capisci quando c'è troppo liquido in un senso che cioè come fai a capire che c'è troppo liquido e poi capisci che mentre tu mescoli accanto allo slime che si sta formando c'è un sacco di liquido per lenti o quello che è attivatore quello che mettete voi ah vi ricordiamo che se volete scriverci su tiktok potete farlo potete consigliarci di video così come per oggi non ho avuto cioè ho tolto il coso pubblico però adesso lo rimetterò perché ho dovuto fare un piccolo imprevisto ecco sì c'è stato un piccolo imprevisto però allora se voi mi prendete la la richiesta io lo accetto quindi tranquilli perché già l'ho fatto con una ok il mio è pronto ragazzi anche il mio wow sembra bello guardate il mio è argento con i glitter blu oro e rossi no ma secondo te vanno con quello fluffy proprio quella cosa così che sembra la cacca credo perché so solo che il mio è fantastico raga ho messo meno pause proviamo proviamo per ognuna perché non li so fare attenta il tasto di comando aspettate ragazzi che vi posiziono meglio perfetto aspetta ora lo faccio io poi dopo la fai tu ok oh raga guardate se si tocca le mani cioè si stacca normalmente vado no per niente però guardate i suoni secondo me perché ci sono i glitter non si fanno bene o però comunque secondo me no è successa una piccola bolla cioè io adoro questo è il mio slime preferito queste due perché hanno delle consistenze davvero togli 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 dai si ci ha fatto una bollina ora vi faccio sentire un po' di smr a me e il colore dico che mi piace non è che proprio mi fa impazzire però è bello soprattutto la consistenza a volte tipo dopo 5 minuti ci veniva duro invece guardate non c'è un slime e niente ragazzi per oggi termina qui se vi piaciuto lasciate un bel pollice in su e se vi va iscrivetevi al canale ah aspetta dobbiamo salutare anche Sofia ciao Sofia che ci ha chiesto di essere salutati su tiktok per essere salutati appunto dovete iscriverci su tiktok o al mio che io mi chiamo martianto09 sotto ad un video ovviamente oppure al suo lei si chiama alessiodota011 e niente grazie mille per i 225 follower e niente ci vediamo domani ciao ciao